...di Bordeaux con il gol di Lacombe che segna il 3-2, dà la vittoria ma sicuramente non la certezza di un esito positivo per la qualificazione al Bordeaux nei confronti dell'Atletic di Bilbao, sempre temibilissimo sul campo di San Mames dove gioca le sue partite in un clima di grande tensione agonistica. Ecco, rivediamo il bel gol di Lacombe, favorito però in parte anche da un'incertezza nel tuffo del portiere.